a Martedì e dieci marzo buongiorno Friuli e bentrovati in diretta in nostra compagnia per la seconda parte della nostra rassegna stampa che iniziamo come sempre con gli aggiornamenti sulla viabilità e allora subito la parola alla centrale operativa della polizia locale di Udine al telefono con noi abbiamo il vice ispettore Favotto buongiorno sì buongiorno buongiorno dunque il traffico in questo avvio di mattinata che risente ovviamente del calo di questo ultimo periodo si presenta assai ridotto ecco traffico che risulta oltremodo scorrevole su tutte le principali vie di transito cittadine ed in corrispondenza dei maggiori piazzali nessun problema degno di nota si riscontra al momento in città riguardo la viabilità per quanto riguarda i cantieri stradali segnaliamo lavori su condotta idrica ed utenze in via Torino nel tratto tra via Vercelli e via Alba con impianto semaforico transito del bus sempre assicurato ecco poi la via Lumignaco altezza di intersezione con via Gervasutta lavori di potenziamento della rete idrica con rallentamenti possibili inoltre in via Pozzuolo dopo la rotonda con via Perusini sulla sinistra rifacimento dei marciapiedi restringimento e rallentamento del traffico in transito nelle ore nelle zone centrali cittadine lavori di ripristino del manto stradale conseguenti lavori di posa della fibra ottica ecco direi che dalla polizia locale di Udine è tutto l'acurio di una buona giornata a tutti voi grazie grazie all'ispettore Sandro Favotto per questi aggiornamenti sulla viabilità abbiamo visto viabilità con poche auto in circolazione in questo momento lo vediamo anche dalle immagini qui siamo in zona stazione delle Corriere anche stazione FS vediamo traffico decisamente scarso andiamo a vedere anche com'è la situazione sulle autostrade andiamo sulla A4 e vediamo subito gli aggiornamenti in tempo reale c'è un po' di traffico rallentato in A4 negli pressi di Porto Gruaro in direzione Trieste tra Sanstino di Livenza e la Tisana traffico rallentato ci informa Autovie che tra l'altro proprio in queste giornate ha segnalato una sensibile diminuzione del traffico in autostrada in una nota inviata ieri si parla di una riduzione del 20 per cento dei mezzi in circolazione dei transiti nella settimana compresa tra il 24 febbraio e il primo marzo e vediamo anche in queste immagini proprio che ci mostrano in tempo reale un tratto della A4 quello nei pressi di Gonars che il traffico è veramente scarso in questo momento non ci sono più le code a cui eravamo abituati nei mesi scorsi la viabilità scusate il meteo adesso allora andiamo subito dall'Osmerarpa dove c'è per noi Arturo Puccillo per vedere come andrà questa giornata per quanto riguarda il tempo buongiorno Arturo buongiorno a tutti situazione meteorologica vede l'avanzamento di un promontorio di alta pressione da ovest accompagnato da correnti da nord ovest e anticipato questo promontorio da nubi alte a quote medio alte come già in parte stamattina che si estenderanno un po' a tutta la regione nel corso della giornata con schiarite che poi interverranno maggiormente nel corso della serata temperature massime si attesteranno intorno ai 15 gradi in pianura un po' meno sulla costa e temperature su sommato abbastanza miti specie inserate in montagna con zero termico che risalirà fino a circa 2700 metri circa attualmente siamo intorno ai 1500 quanto riguarda la giornata di domani sarà essenzialmente con cielo da sereno poco nuvoloso salvo qualche nuvolamento qualche inversione inserata in montagna appunto perché lo zero termico salirà ulteriormente oltre i 3300 metri di quota quindi temperature decisamente miti in quota e per quanto riguarda il prosieguo la giornata di giovedì vedrà qualche nuvolamento in più possibile specialmente nella seconda parte della giornata per l'avvicinamento di un modesto fronte che potrebbe interessarci maggiormente nella giornata di venerdì come però apparentemente con fenomeni limitati naturalmente ne riparleremo direi che per ora è tutto grazie grazie allora ad arturo pucillo per queste previsioni del tempo per i prossimi giorni poi ovviamente per il fine settimana ci risentiremo nelle prossime nelle prossime giornate mentre vediamo ancora alcune immagini che ci arrivano dalle nostre montagne ben innevate ma dove i poli sciistici chiuderanno lo ha annunciato ieri la regione proprio per fermare e rallentare questa diffusione del coronavirus vediamo anche alcune immagini che ci arrivano dal mare così passiamo dalla montagna al mare di grado il cielo è abbastanza sereno a grado un mare calmo lo vediamo proprio in queste immagini che ci arrivano in tempo reale dall'isola del sole dove in questo momento il termometro segna otto gradi e quattro decimi e possiamo chiudere adesso questa parentesi dedicata al meteo e alla viabilità per ritornare sui quotidiani di oggi andiamo a vedere i titoli di apertura andiamo a vedere le notizie principali dei quotidiani locali e poi come sempre ci concentreremo in questa seconda parte un po di più sulle notizie sportive allora vediamo il piccolo il piccolo di trieste che apre con questo titolo tutta l'italia ora è in isolamento conte dice dobbiamo restare a casa anche in friuli venezia giulia scuole e università chiuse fino al 3 aprile e c'è una seconda vittima in regione un anziano della provincia di pordenone i contagiati sono 93 record a trieste con 53 persone risultate positive al coronavirus già sorvegliate stazioni e strade sulla a4 attivi solo i caselli automatici e la slovenia annuncia controlli sanitari alla frontiera questa appunto la prima del piccolo di trieste e vediamo appunto anche finita la stagione sciistica per lo sport stop integrale chiudiamo adesso il piccolo andiamo sulle pagine del gazzettino il gazzettino del friuli e vediamo subito il titolo di apertura del dorso locale il virus entra nella casa di riposo è risultata positiva un assistente della struttura di mortegliano in aumento il numero dei contagiati 19 sono in ospedale salgono a due i decessi per colpa del covid 19 in friuli venezia giulia e poi quattro storie di quattro persone che ci raccontano come è cambiata la loro vita salgono a due i decessi da covid 19 in friuli venezia giulia la seconda vittima è un uomo di 89 anni che era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di pordenone e aumenta anche il numero di casi positivi al coronavirus in regione 93 su un totale di 1344 tamponi effettuati 19 di queste persone sono ricoverate in ospedale 10 a trieste e 6 a udine di cui 3 si trovano in terapia intensiva nel pomeriggio di ieri erano in corso ulteriori 234 analisi sono 36 dunque le nuove positività accertate rispetto a domenica e registrate ieri dal sistema sanitario regionale questa è la notizia che apre le pagine del gazzettino del friuli e poi vediamo anche qualche altro titolo sempre sulla prima pagina nel taglio basso all'ateneo di udine i primi laureati via skype proprio per il coronavirus e per la cronaca il caso di una donna che aveva detto di essere stata rapinata da un clochard in stazione a udine ma era tutto falso era stata lei ad aggredire a parole l'uomo il movimento 5 stelle che chiede una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni sulla procedura di autorizzazione dell'inceneritore di manzano e poi ancora vediamo di spalla la torre di santa maria a udine che diventerà sede del museo dell'industria grazie all'intervento appunto di confindustria udine questo è la prima pagina del gazzettino del friuli andiamo adesso sulle pagine del messaggero veneto messaggero veneto di udine e di pordenone in apertura vediamo conte non c'è più tempo estese le restrizioni italia zona protetta secondo morto in regione è di pordenone e poi vediamo le prime righe dell'articolo che inizia così l'ora più buia è arrivata e oscura tutti i colori con i quali abbiamo imparato a definire le zone del contagio del virus in italia fino a oggi da questa mattina tutta italia fino al 3 aprile diventerà un'unica gigantesca area off limits una zona protetta la chiama conte come hubei la regione della cina il cui cuore è wuhan l'epicentro di questo dramma e poi vediamo la fotonotizia in fila al supermercato rispettando le distanze disinfettante per i carrelli verso il blocco delle visite già programmate ma non urgenti oggi la regione deciderà in tal senso e vediamo che tutto lo sport si deve fermare stop anche al campionato andiamo sulla prima pagina del fascicolo di udine e provincia e vediamo il tema della raccolta differenziata dal bidoncino al riciclo ecco dove finiscono tutti i rifiuti differenziati il viaggio per scoprire la rotta delle immondizie trasportate dai camion della net il direttore fuccaro dice udine è virtuosa puntiamo a recuperare l'ottanta per cento degli scarti prima che partisse il nuovo metodo si si differenziava il sessantasei per cento dei rifiuti e l'umido portato a pordenone diventa compost e bio metano di spalla anzi nella pagina accanto vediamo le decisioni del comune di udine che oggi in giunta deciderà lo stop alatari per le ditte il comune sta pensando di rinviare il pagamento e nostra intenzione coinvolgere l'iniziativa anche gli altri comuni del friuli venezia giulia detto l'assessore laudicina che parla di una boccata d'ossigeno per le imprese oggi vedremo appunto quali saranno le decisioni della giunta comunale chiudiamo anche questa pagina del messaggero e andiamo sul messaggero veneto di pordenone andiamo a vedere anche qua la notizia che apre il fascicolo locale andiamo a recuperare il messaggero di pordenone eccolo qua e vediamo che in primo piano ci sono le parole delle sindaco ciriani in materia di emergenza coronavirus via a controlli e multe nei bar aiuti coi soldi tolti agli eventi saltati sindaci uniti nell'emergenza in prefettura a sacile lettera di spagnola i commercianti per rispettare le misure del decreto non è una resa non è uno stop totale non ancora ma gli ultimi decreti che regolamentano l'emergenza al tempo del coronavirus impongono una nuova responsabilità sia ai cittadini sia alle amministrazioni comunali questa l'apertura del messaggero veneto di pordenone e ovviamente anche per orto giardino speranze appese a un lumicino la fiera che si sarebbe dovuta tenere dal 7 al 15 marzo a pordenone poi rinviata a fine marzo ora si lavora un solo weekend ma non è detto che si riesca a trovare una data e una soluzione chiudiamo queste pagine di cronaca dei quotidiani locali e andiamo adesso sulle pagine sportive di gazzettino e messaggero veneto ma anche sulle pagine sportive dei quotidiani nazionali e vediamo appunto le ultime di sport il gazzettino a proposito di udinese oggi è titola così bene la rotazione anche se l'udinese resta convalescente nel girone di ritorno non ha ancora vinto ma a quattro pari di fila sono un buon risultato schierando titolari Nestorowski e Iaialo è stato inviato un segnale anche a chi ha giocato di meno l'obiettivo minimo è stato raggiunto senza particolari patemi come luca gotti sperava l'udinese doveva evitare a ogni costo contro la fiorentina la sconfitta che avrebbe inevitabilmente aperto la crisi con tutto quello che ne sarebbe di peso non solo i bianconeri non hanno perso ma non hanno subito reti l'innesto di Iaialo ha dato sicurezza compattezza al sistema difensivo bianconero la temuta fiorentina ha avuto una sola vera palla gol il tiro di Milenkovic nel finale del primo tempo che è stato respinto dal palo in sostanza ai viola è stato concesso il minimo sindacale e poi vediamo anche le parole di Juan Musso ospite ieri sera di del nostro tonight rispettiamo la decisione del governo ha detto il numero uno dell'udinese a proposito appunto della decisione di stoppare i campionati tutti i campionati è stata una giornata strana per noi ha detto Musso quella ovviamente di domenica la partita porte chiuse con la fiorentina perché siamo abituati a giocare qui con la spinta dei tifosi una situazione poco reale che ti costringe ad aumentare la concentrazione per restare in gara con la testa e siamo stati bravi tutti a riuscire a condurre una buona gara nonostante questa situazione al di fuori della normalità il campionato si ferma a essere sincero se fosse per me io vorrei sempre giocare anche a porte chiuse ma so anche che bisogna rispettare la decisione del governo in un momento che è così delicato per l'intera popolazione queste le parole di Musso e poi ancora guardando sempre ai numeri vediamo di spalla mai così pochi gol dagli inizi degli anni 80 il gol in casa udinese sta diventando più prezioso dell'acqua è di vitale importanza per evitare di soccombere andiamo a vedere anche la pagina successiva dove troviamo un articolo di Italo Cucci che racconta la gara di domenica tra udinese e Fiorentina dice bene la difesa per quanto riguarda l'udinese ora l'attacco Gotti tiene al gioco più del praticone Iachini ma la squadra pare poco interessata a vincere il pari va bene ma serve maggior cattiveria per spezzare le trame avversarie senza paura e poi vediamo appunto tutto l'articolo di Italo Cucci che a proposito appunto della sfida della Dacia Arena dice Udinese Fiorentina è stata più bella dello 0 a 0 che vorrebbe rappresentarla degna conclusione di una domenica speciale niente gol perché l'udinese ne sbaglia a volontà a cominciare dai primi minuti con Mandragora che ci riprova verso la mezz'ora dando l'imbeccata a Okaka poi ci prova la Fiorentina con Milenkovic palo e finisce il primo tempo molta voglia e tanta accademia mi stupiscono i tecnici notoriamente pratici anche se Gotti tiene al gioco più del praticone Iachini che fanno gran movimento e poco danno e poi appunto vediamo l'articolo che prosegue e invece per quanto riguarda il futuro del campionato vediamo preoccupano le convocazioni le convocazioni per le nazionali ecco qua l'articolo tra campo e tutela della salute nella pagina successiva le parole del presidente del Pordenone Mauro Lovisacchi dice ora è giusto sospendere ma poi bisogna arrivare fino in fondo il presidente Neroverde dice non sarebbe corretto cancellare l'ultimo quarto della stagione sui nuovi acquisti Boccalon ha dimostrato la sua abilità in area Gasbarro è stato fra i migliori e poi vediamo appunto di spalla oggi il consiglio federale si sceglie la nuova strada. Ancora chiudiamo le pagine del Gazzettino e andiamo sulle pagine sportive del messaggero Veneto messaggero Veneto di Udine ecco qua il titolo di apertura il governo ferma lo sport fino al 3 aprile così il campionato non potrà più finire nuovo decreto per appoggiare il coni e superare il consiglio figici di oggi i club di a contrari non ci sono date per i recuperi stop a tutto lo sport fino al 3 aprile parola del coni dopo una riunione di d'urgenza con tutte le federazioni parola che da ieri sera diventa un ordine attraverso un nuovo decreto del governo del premier Conte che scavalca la possibilità di giocare a porte chiuse come era previsto nel precedente documento del consiglio dei ministri quello del 4 marzo una misura che la lega dei club di serie avrebbe voluto continuare a utilizzare per chiudere un campionato che altrimenti non potrà finire visto che non ci sono date per i recuperi le società preoccupate da una possibile causa di risarcimento danni milionaria delle tv questo il titolo di apertura del messaggero veneto e per quanto riguarda le possibilità di recupero le vie d'uscita da questa situazione il giornalista della RAI Stefano Bizzotto dice rinviare l'europeo per far terminare questo campionato il giornalista RAI fa il punto della situazione sul momento della A l'udinese deve darsi una mossa dice Bizzotto le inseguitrici stanno arrivando e poi abbiamo appunto tutto l'articolo e vediamo appunto il passaggio sul futuro del campionato secondo lei questo campionato sarà completato intanto pare di capire che il campionato viene sospeso per un paio di settimane questo farà slittare tutto cosa succederebbe se lo scudetto non venisse assegnato è già successo una volta per altri motivi come fare però nella zona bassa della classifica non mi cimento in questo argomento delicatissimo ieri mattina per radio sentivo di una proposta con una serie a 22 squadre con le 20 attuali più le squadre promosse direttamente e la terza che può salire attraverso i playoff non li facciamo disputare tra l'altro la serie cadetta avrebbe più tempo per recuperare le giornate rinviate la finale di ritorno dei playoff è fissata per il 31 maggio finire la stagione due tre settimane tre settimane dopo non sarebbe la fine del mondo e poi l'ipotesi di un rinvio dell'europeo 2021 mi sembra un'ipotesi ragionevole salterebbe la nation's league ma mi sembra il male minore queste le parole di ehm bizotto andiamo a dare un'occhiata anche ehm alla palla canestro la palla canestro con le parole del general manager della più Michalic alla più si pensa positivo Michalic dice è giusto così la sospensione non ha colto di sorpresa i bianconeri oggi seduto al Carnera decisione sacro santa per una volta lo sport è compatto dice Michalic vediamo anche i dilettanti che si adeguano niente pallone per un mese dopo il primo stop l'assemblea della Lega Nazionale Dilettanti ha eh deliberato la sospensione fino al tre aprile il blocco riguarda i campionati dalla serie D alla terza categoria e tutte le giovanili e le parole di Canciani che fa chiarezza mi sento di sconsigliare le sedute di allenamento queste le parole di eh Canciani andiamo adesso sulle pagine della gazzetta dello sport andiamo sui quotidiani eh sportivi eh nazionali e eh vediamo appunto la prima pagina della gazzetta che apre con questo titolo tutti a casa chiusa l'Italia e anche la serie A decreto shock di vieti fino al tre aprile il ministro Conte il primo ministro Conte raccoglie la palla del coni e sospende ogni campionato nel calcio si salvano per ora solo le coppe europee a porte eh chiuse Scudetto Euro 2020 allenamenti diritti tv ecco cosa succede eh ora nelle pagine interne tutti gli articoli in prima pagina vediamo il gol messaggio di Francesco eh Caputo del Sassuolo che ieri ha giocato il recupero contro il Brescia vincendo tre a zero l'attaccante è stato autore di una doppietta poi è dato a segno anche Boga e questo il messaggio che eh Caputo ha esposto dopo eh il gol andrà tutto bene restate a eh casa e vediamo nel eh taglio alto la eh Champions League che eh si gioca a porte chiuse e vedrà protagonista l'Atalanta a ritorno degli ottavi di Champions questa sera alle ore ventuno Vamos Atalanta facci sorridere nel vuoto di Valencia parte dal quattro a uno cerca i quarti per Bergamo e la eh storia il nostro attimo di normalità scrive Giorgio eh Gori e c'è attesa anche per la decisione eh sull'altra gara che vede coinvolta un' italiana Barça Napoli senza tifosi o solo con i eh catalani oggi è attesa la eh decisione andiamo sulle pagine interne sulle prime pagine della eh gazzetta e vediamo appunto alcuni passaggi dell'articolo di apertura lo sport si ferma il decreto Conte stoppa l'Italia fino al tre aprile i campionati di calcio sono tutti sospesi ma si salvano le partite europee ieri sera appunto è eh arrivato il decreto e eh ci si chiede appunto cosa succederà adesso adesso al campionato promozioni retrocessioni scudetto eh cosa cambia i giocatori possono comunque allenarsi che cosa accade ai diritti tv del calcio tutte eh questioni ovviamente ancora da eh affrontare e da eh risolvere di sicuro c'è che appunto il campionato adesso è fermo fino al tre aprile eh almeno il segnale chiesto al governo i dubbi dei club e il silenzio dell'UEFA scrive la eh gazzetta. Ancora vediamo anche nella pagina successiva la eh stretta di eh Conte vediamo se riusciamo a recuperare ecco qua la nostra eh pagina stretta di Conte l'Italia si ferma estesa appunto la zona eh protetta la rabbia nelle carceri rivolta da nord e sud dei vasi in massa affoggia questa pagina ci riporta un po' sull'attualità eh di cronaca eh di di questi giorni di queste ultime eh ore e poi invece per quanto riguarda eh l'altra eh copertina vediamo il mondo dei motori con la formula uno che invece va avanti si comincia scrive la gazzetta dello sport il virus non spaventa porte spalancate a Melbourne per il gran premio Orgoglio Ferrari siamo l'unica squadra sempre presente non possiamo mancare Hamilton i segue i primati di Schummi le Clerc sfida Fettel anche nella eh precocità parte dunque la formula uno con il gran premio eh da Australia chiudiamo la gazzetta dello sport e andiamo sulle prime pagine degli altri eh quotidiani sportivi nazionali andiamo a vedere anche Corriere dello sport e tutto sport mettiamo vicine le due pagine ecco qua eh tutto sport titola tutti a casa scatta la campagna dei campioni distanti ma uniti decreto del governo tutto il paese zona rossa il CONI e le federazioni fermano lo sport in Italia fino al tre aprile al tre aprile stoppa le competizioni nazionali mentre quelle internazionali restano al momento confermate anche Siviglia Roma si giocherà a porte eh chiuse e poi nel taglio alto l'Atalanta più forti del virus eh a Valencia ci aspetta la partita più importante nei centododici anni di storia dell'Atalanta dice Gasperini vogliamo dare una gioia a Bergamo e a tutta l'Italia si gioca appunto questa sera il Corriere dello Sport apre invece con questo titolo stop lo sport si ferma con tutto il paese e l'Italia diventa zona rossa eh diventa zona protetta da oggi vietati gli spostamenti come abbiamo già detto eh prima eh ampiamente e anche qui vediamo nel taglio basso Gasperini a Valencia per la eh storia siamo eh pronti ha detto il tecnico dell'Atalanta. chiudiamo queste pagine dei eh quotidiani eh di oggi e prima di eh salutarci andiamo a vedere anche se ci sono delle ultime ora importanti sui principali siti di eh comunicazione online andiamo a vedere innanzitutto l'agenzia di eh comunicazione eh ANSA vediamo cosa eh ci racconta e se ci sono appunto delle ultime ora importanti in primo piano eh ci sono ancora le parole di Conte eh pronunciate ieri sera Conte tutta Italia zona eh protetta vediamo ancora eh i supermarket non chiuderanno ma nella notte è scattato l'assalto ai punti vendita aperti eh ventiquattro ore su eh ventiquattro e poi eh vediamo eh l'apertura eh delle delle borse il petrolio eh rimbalza trentatré virgola sessantun dollari eh scende eh l'oro e eh Londra eh sconsiglia i viaggi in tutta eh Italia e poi eh vediamo appunto la borsa di Tokyo che apre con un nuovo eh calo in eh apertura. Vediamo anche il Tgcom ventiquattro anche qui tutta l'Italia diventa zona protetta niente assembramenti spostamenti solo per lavoro lo stare a casa è eh imperativo ecco le nuove eh regole il Tgcom ventiquattro propone anche un'ultima ora eh che eh riguarda eh l'Austria l'Austria che richiama in patria i eh cittadini a Wuhan chiuso anche l'ultimo ospedale provvisorio mentre in Corea del Sud diminuiscono i eh contagi la Gran Bretagna sconsiglia i viaggi del eh nostro eh paese e qui vediamo appunto eh l'appello del dell'Austria che eh ha lanciato un appello a tutti i propri cittadini affinché tornino in patria. Vienna inoltre ha messo in guardia gli austriaci consigliando di evitare viaggi in eh Italia. Erano stati annunciati nei giorni scorsi anche controlli ai eh confini eh con il nostro paese vedremo nei eh prossimi giorni se eh arriveranno eh oppure oppure no vedremo cosa accadrà anche già eh nella giornata eh di oggi. Chiudiamo questo collegamento con UTG.com ventiquattro e chiudiamo anche questa seconda diretta di oggi. Adesso come sempre la linea passa alla regia, alla programmazione. Noi ci rivediamo alle undici con la prima edizione del nostro eh notiziario. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Grazie.